Amiche meravigliose e amici la qualunque, siamo all'inaugurazione della stagione lirica, questa volta l'ho fatta grossa, inauguro con un'opera che nessuno conosce e che insomma mi causerà non pochi problemi e quindi ho la necessità di chiedere forse perdono all'entità supreme. Andiamo. Padre questa volta l'ho fatta grossa, inauguro la stagione lirica di Pisa con un barocco sconosciutissimo, si chiama Empio Punito di Melani, Melani si è un toscano famosissimo però io sono preoccupatissimo padre, sono veramente nei guai, questa è un'opera stupenda, si immagini che è la prima volta che il mito di Don Giovanni va in palcoscenico, qual è il mio fallo? Se ho sbagliato me lo dica lei, ma insomma è un'opera ricca, densa, piena di torpitudini, piena di zozzerie, piena di cose misteriose, ma la cosa peggiore padre, lo devo confessare, è che la faccio in moderno, si non c'è una ruche, non c'è uno jabot, non c'è un pizzo, è tutta colorata, moderna, rocchettara, mi uccideranno padre? E se ci arriva poi il gruppo dei veristi anonimi che hanno già giurato la mia pelle, cosa posso fare? Me lo dica lei, quanta penitenza dovrà subire per questo errore che ho fatto? L'Empio Punito è un'opera meravigliosa, è un'opera ricca di avvenimenti, è la prima volta che il mito di Don Giovanni finisce in palcoscenico, questo personaggio arriva addirittura a sedurre Proserpina nell'inferno, ci sono i diavoli, c'è Caronte, ci sono i demoni, mi aiuti lei padre, me lo dica lei cosa devo fare? Il mio fallo tardi vedo, ma forse ormai è troppo tardi, e poi le dico, non c'è nemmeno una cosa ricciolente in nessuna degli atti, è colpa mia vero? Eh sì lo so, è colpa mia. Padre, quest'opera è stata scritta 350 anni fa esatti, fu addirittura presentata davanti a Cristina di Svezia quando era a Roma, era per la famiglia Colonna, addirittura si dice che la regina volle solamente pubblico maschile ad assistere, aveva bandito la presenza delle donne, queste sono le leggende che ci dicono, però insomma, conoscendo Cristina di Svezia è anche probabile. Solo la connessabile Anna Mancini si travestì da uomo per cercare di vedere lo spettacolo, uno spettacolo che pare che costò l'ira di Dio, qui a Pisa naturalmente non costa così tanto, perché non abbiamo tutti questi soldi, però speriamo insomma che ci sia quella freschezza, quell'immediatezza, quel successo che 350 anni fa fu decretato a questo spettacolo. Un gruppo di toscani fantastici farà questo spettacolo, dal regista al direttore d'orchestra, al gruppo orchestrato, alcuni cantanti, Melani stesso, il compositore, era di Pistoia, era tutta una famiglia di pistoiesi doc, poi sono finiti dalla corte dei Medici, sono finiti al Vaticano, sono finiti in Francia, erano pure spie per il governo, insomma, ne hanno combinati di tutti i colori, i Melani, ma io padre, cosa potrò combinare? Mi faranno fuori? Mi pento? Mi devo pentire? Che non è la sua penitenza? Per il battesimo della fede cristiana, padre mi dica, verrà a vedere lo spettacolo almeno lei, la supplico, il 12 e il 13 ottobre 2019 al Teatro Verdi di Pisa la supplico e l'inaugurazione, la prego, non mi abbandoni, non mi lasci in questa desolazione, io ho bisogno di lei, lei il 12 e il 13 ottobre deve essere lì con me ad assistere a questa meravigliosa opera di Melani. Amiche meravigliose e amici improponibili, questa volta in questo video ci sono ben tre citazioni di opere. A voi naturalmente la scommessa di vincere perché chi vince e lo dice per primo nell'apposita indirizzo che vedete qui sotto avrà due biglietti omaggio per la recita di domenica 13 ottobre. Buona fortuna! Grazie a tutti!